Grazie a tutti No, no No, sono lì, no? Ragazzi, oggi c'è da schiazzare in Asia Siamo in smeggi Ci siamo appena svegliati dopo Da due belle ragazze li ho fatti svegliare Dopo non aver dormito E non mi sono stati neanche gratti Bastardi Bastardi a chi? Bastardi a chi? Namu Che noi ieri siamo andati in discoteca Mi ha fatto avere anche le riduzioni Grazie a noi No, via, l'ho fermato io il tifo C'è il tifo? L'ho fermato io il tifo È l'attiva però No, non sono fatta lì Dovete andare a vedere Alla via 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 No, non potei venire, non faccia troppo da svegli No, non potei venire, non faccia troppo da svegli 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 Tra poco si travede Oh, zoom su Bill Clinton E' dato il sinistro guardando la prova Oh, Bill, hello, hello, Bill Oh, se ne è andato Non è scappato perché stamattina quando sono venuto a Paglia Sardigna l'ho visto quindi in un attimo non scappa Eccolo lì E' attestata nucleare questo e non è che si vede tutti i giorni E' meglio che non ci fossero però ci sono purtroppo E quindi potete fotografarli Questa grande nave Questa grande nave è una nave a pulso per sommeggibili Ci sono circa 800 marinai E' equipaggio misto, donne e uomini Come fatti a fine anno si raddoppiano sempre Perché le donne in mezzo agli uomini non so cosa fanno A fare militare Ecco perché l'America è la nazione più forte del mondo Adesso sta tentando anche la Marina Italiana di copiare gli americani E' tutto un discorso da vedere Ecco non lo vediamo meglio adesso l'arsenale Qua a destra in direzione della Poa 1 E noi nelle nostre navi della Maddalena facciamo i lavori all'arsenale C'è un bacino di carenaggio A destra vediamo alcuni alberi di eucalipto Questo è il grandissimo ospedale della Marina Italiana Che fino a moltissimi anni fa funzionava anche per i civili C'è anche lì una delle camere iperberiche più importanti della Sardegna Ce n'è una alla Maddalena, l'ospedale di Maddalena E una in questo ospedale Dove vengono molti embolizzati Che purtroppo ancora continuano a fare la pesca subacqua Malgrato in Sardegna si è avvietato da moltissimi anni Che noi lo sappiamo, viviamo a mare quindi Non mi attraversi di prora eh signore eh Cosa sta facendo? Cosa sta facendo? Si passa di patto una nave specialmente quando la viene sulla sua destra Guarda qui la gente facendosi i bagni Razzia di deficiente guarda Allora in direzione di questo agricoltore col motoscaffo qui in alto a due metri C'è una roccia che forma lo stivale Lo vedete lì? E allora Qualcuno l'ha vinta? Fatelo vedere anche agli altri Sì 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 Sopra la piena roccia È una tipa cosa Sì sì Hai visto? L'ha vinto? Ha vinto? Ma dove? Mi stanno messo a posto E mi ha fatto? E lì a posto? Non sono appuggiato Eh? E dai riconoscire la testa E dai? Spero Grazie a tutti 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 Grazie a tutti